Quasi fosse tornato stranamore, Teramo è stata invasa di cuori e amorosi frasi perché questa mattina Piazza Martiri è diventata set per la nuova trasmissione Mediaset condotta da Anna Tatangelo e diretta, niente popò di meno che, da Federico Moccia già autore di quella vera Bibbia dell'amore, Cuoricini e Lucchetti, che era tre metri sopra al cielo. Anna Tatangelo a Teramo dunque per girare la puntata del nuovo reality che andrà in onda ad aprile e che vedrà insieme alla bella cantante anche Alvin, storica spalla di Silvia Tofanina Verissimo e che secondo indiscrezioni si dovrebbe intitolare I like it e che sarà una sorta di ufficio cuori solitari, tutto dedicato agli adolescenti. Insomma, dopo tre metri sopra il cielo si passa a 3000 chilometri in giro per l'Italia a cercare di tessere amorosi in trecci, così come hanno cercato di fare Alessia di Tossicia e Gianluca. I due ragazzi protagonisti della storia terramana che ha visto le finestre e i balconi degli uffici comunali trasformarsi in una sorta di enorme biglietto d'amore per salutare la passione tra i due adolescenti grazie anche alla convinta partecipazione dell'assessore alla cultura Francesca Lucantoni nella speranza però che adesso non comincino ad attaccare i lucchetti su Ponte San Francesco.